Buon salve e bentornati su No Mamamazzo. È uscito in questi giorni il trailer della seconda stagione di The Boys. Io che ho adorato la prima stagione, che trovate su Amazon Prime Video, ho fatto anche due video riguardo la prima stagione di The Boys, vorrei vedere insieme a voi il trailer della seconda stagione, così facciamo una trailer reaction, così poi voi mi scrivete qui sotto anche voi cosa ne pensate. Le autorità federali hanno avviato una caccia all'uomo tra gli stati per William Butcher. Se trovate William Butcher o uno dei suoi complici, Marvin Milk, Hugh Campbell o quest'uomo, chiamate il numero 18880-Crimine. Il mondo ha ancora bisogno di supereroi. We didn't saw the fire, bellissimo pezzo. Adesso andiamo tutti a fare fuori quegli stronzi. Siamo famosi ora. Tranquillo. Papà è tornato. So che ne abbiamo passate tante insieme. È un vero casino. Intenta per il potere. Siamo gli uomini più ricercati del paese. Allora qual è il tuo piano? L'adorerai. Mi prendi sempre per il culo. So già che non l'adorerò. Ok. Oddio. C'è il cane come nei fumetti. Voi idioti siete fortunati che sia arrivato io. Qua dicono addirittura 4 settembre, avevo sentito anche 23 luglio l'uscita, ma al di là di questo. Come sempre trailer molto splatter, si è capito poco, la storia che era stata conclusa con un cliffhanger in cui Butcher scopre di avere, nella serie, no, nel fumetto, scopre di avere un figlio. O meglio, scopre che la sua ex moglie è ancora viva e che ha avuto un figlio con il patriota, non è minimamente nominata in questo trailer, però ci fanno vedere comunque che loro sono dei nemici pubblici, sono sulla bocca di tutti, sono i cattivi, perché appunto per l'opinione pubblica i buoni sono come al solito i supereroi, che invece sono dei figli di puttana. E cose carine che ho visto, per esempio c'è il cane, il cane di Butcher, che si era visto solo in un flashback nella prima stagione, qua invece sembra parte attiva dei The Boys, così com'è nel fumetto. L'hype è a mille, ma era a mille anche prima, nel senso che non hanno aggiunto tantissima carne al fuoco. Mi è sembrato di vedere un paio di super nuovi, c'è una ragazza che vola grazie a delle scariche elettriche che sembra molto interessante, un altro tizio che sembra che faccia delle onde d'urto con le mani, vedremo, staremo a vedere. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, se avete dell'hype per The Boys 2, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Vi ricordo sempre anche di iscrivervi al canale e di iscrivervi anche al mio profilo Instagram, che così vi terrete un attimino aggiornati anticipatamente sui video che usciranno. Come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e arrivederci.